Buongiorno ancora ragazzi, sono le due, ho appena finito di mangiare e mi sono catapultata fuori perché stavo per perdere il pullman You know, the usual Allora, i fiani per oggi sono di andare dalla Beck e praticamente dobbiamo raggiungere la Meg Poi dobbiamo andare a prendere il regalo per la Ellie perché tra poco e questo compleanno, esattamente venerdì 8 Quindi dopo domani, quando sto filmando questo video E niente, dobbiamo andare a prendere una parte del regalo perché facciamo un regalo tutti insieme E io la Beck dobbiamo andarla a prendere, tanto lo caricherò dopo questo video, quindi posso pure dirlo Dei libri, vediamo se ci sono dei libri Oppure la Meg poi va a prendere un braccialetto, quindi facciamo un braccialetto e libri E forse un cuscino con l'emoji, li avete visti, sapete quali sono E poi dobbiamo andare io la Beck e la Ellie, a casa della Ellie Perché la Ellie praticamente vuole che la aiutiamo a fare la torta di compleanno perché la fa lei, visto che le piace E quindi niente, andiamo lì, è una cosa carina, la aiutiamo Poi mi spiegate perché devo sempre uscire di casa con il 50% sul telefono Cioè è proprio una cosa così stupida 50%, 49% per l'eseratezza, quindi devo farmelo bastare fino a stasera, cosa che non succederà Ok, quanto per la Beck non è a casa, quindi devo chiamarla per scoprire dov'è Cioè qua c'è la Beck con me Say hello Ciao Ellie Siamo andate appena a prendere l'altra parte del regalo di Ellie Lei ha comprato una gonna molto figa, che anche dopo fai la haul Sì, della gonna Ho preso la gonna, basta Per l'Ailey abbiamo preso il, come si chiama, il boccino di Harry Potter, la collana Il boccino proprio, la collana col boccino carinissima E adesso ci stiamo ingegnando Per fargli la lettera di Hogwarts Giusto, bella lettera già stampata Serve la busta e il sigillo In cui metteremo la scritta Hogwarts, qua la ricalco io Basta che troviamo la candela, così poi facciamo colare la cera Oppure c'era un coso che aveva detto una tizia che dobbiamo trovare Sì, quella lì che ci ha venduto la collana La collana No, non dimmi che è chiuso È chiuso, raga Allora, guarda che figo, il donut e poi l'Ele E dovevamo prendere, beh, un'emoja comunque alla Ellie Magari per la lì che arrivi, che la usa abbastanza E qua dovevamo in teoria prendere la candela Ma è chiuso Perché questo è un negozio tipo, tutto un euro Andiamo all'università Andiamo dove? All'università Let's go to university Ragazzi, dovevamo prendere la candela Ma è chiuso Cioè, tutto chiuso Ma anche un orario normale, sono quasi le quattro, voglio dire È che noi siamo sfigazzi Secondo me siamo proprio sfigate Abbiamo una candela rossa Yeah Qua c'è la Ellie Ciao Ciao Belita È molto fissa come quadra tour, è vero? Noi stiamo programmando il viaggio di Interrail Sì Ma te lo richiamo Ma no, ma no, ma no Ma che vuole? Toi, papà Papà? Cosa vuoi? Cos'è? Ma questo telefono è grassi? Eh Andiamo arrivati dalla Ellie Andiamo al 6 Totti dalla Ellie Guardate che mi siete molto flow Facciamo quant'oria La Ellie fa Mary Monroe adesso Adesso andiamo a fare la cake Di nuovo Cheesecake Che gusto Cheesecake al cioccolato Al cioccolato Come procede la torta? Procede Procede? Aspetta, aspetta La facciamo procedere Qua ci sono scambi illegali Di roba varia Finiotografi Stiamo cercando qualcosa da cercare Qualcosa da guardare Qualcosa da guardare su Netflix Perché lei li ha lavoramento a Netflix Stiamo per vedere Orange is the New Black E nessuno di noi tre l'ha visto? Esatto Io ho una amica che è fissata Secondo me diventiamo fissata anche noi Basta, adesso inizio Bye Raga, ragacella Beh che ho appena fatto una battuta però Beh quella che ho fatto prima io Scusami Perchè c'è questo posto Nella nostra città Che si chiama Agua È un bar E allora Cos'è che ho detto? E ci sguizzi dentro Ci sguizzi dentro Raga bellissima No già schifo Adesso stiamo raggiungendo Mio papà Ovviamente Dov'è mio papà? Dove passa la mia vita Mio papà? A fare la spesa Ok ragazzi Sono tornata da un po' Beh Da mezz'oretta Circa sono le 10 adesso E volevo farvi vedere Perchè prima non volevo Fatto vedere Il ciondolo Che abbiamo preso Alla Eli Guardate che bello È il boccino d'oro E la lettera Questa qua E diceva bene Le salute cose Se siete appunto E poter cadere lo sapete E dice Cara signorina Poi dovete mettere il nome Siamo volete di informarla Che lei ha detto Di raccontare La scuola di magia E poi c'è scritto Qui incluso Troverà l'elenco Di tutti i libri di test E dell'attrezzatore necessario Cosa che Allegato In allegato Non c'erano Questa è la piccola sorpresina Harry Potteriana Diciamo Niente ragazzi Adesso concludo il vlog qua Questa è la prima parte Perché Volevo fare Un misto insieme Un misto del vlog Di compleanno Quindi vloggerò anche domani Quindi questa parte La tengo molto molto Ridotta E niente Ci vediamo domani Perché c'è la festa Per voi domani Sarà solo qualche secondo Quindi 1 2 3 A domattina Buongiorno ragazzi E benvenuti al giorno seguente Sono le 5 Per pomeriggio E sto per prendere l'autobus Che devo andare a casa Della Beck Che dobbiamo fare Vi ho fatto vedere ieri No La Beck è la candela rossa Quindi praticamente Dobbiamo fare il Il sigillo Di Harry Potter Per la lettera Per la Ellie Che stasera c'è Il compleanno E come vedete Mi sono lasciati i capelli Ragazzi Cambio di programma Perché invece Andare dalla Beck Sono andando dalla Meg Visto che Vabbè Doveva andarci dopo Ma praticamente Lei deve uscire prima E quindi Se io andavo da lei Poi non c'era nessuna casa Ok questa è la fantastica borsa Di tutto quello Per la Ellie Tutti i gifts Sono qua a casa della Meg E adesso stiamo lavorando Alla lettera Però ci manca l'indirizzo Di casa dell'Elie E poi siamo a posto E sì Ellie Questi sono tutti due regali Wuhuhu Deve cadere Raga Stiamo cercando di Sciogliere la cera E l'idea della Meg Perché non avevano candela rossa Quindi andiamo Oh sure La Meg a puore Che le distrugge la casa Ah beh Non tiriamo un po' Se scioglie Guarda che figata Se scioglie Ok raga Non è il massimo Però allora Il rosso c'è Poi ci ho messo La H Così a casa Però Dai Ci può stare Adesso stiamo In ritardo Per comprare Andrilli Abbiamo un regalo Che la Meg Mi ha rifiato a me Perché Che è successo Sono senza occhiali Perché l'opulista Mi ha rotto L'opulista Mi ha rotto E c'è uno Che mi sta guardando Youtube Siamo nel 2016 Ok Guardate che figa La Haley Guardate che figa Quindi avremmo Un discorso in inglese Guarda Quanta eleganza La coppia dell'anno No tu no Tu vai via Rovina la scena No No Hashtag anche Elisa C'ha 18 anni Ragazzi Stiamo andando A prendere la cugina Della Haley Praticamente Parla solo inglese Parla solo inglese E niente Dovremmo sfoggiare Il nostro video inglese Io voglio vedere L'Ale Ci sono due Teo O due Tei Due Tei Dio 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 Ciao Vuoi dire qualcosa? Sì Sì È un beautifullo 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 Cosa ti dà? È una sentuta spirida Cosa ti dà? No Sì Perché l'hai spenta? Ma no Si è spenta Si è spenta Guarda sei nominato per Lampadario Dio 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 Batteria Quindi vi dico Bye guys Buonanotte Dio